Mr. Turri, non ho la vittoria stagionale che vale l'accesso al finale. Che partita hai visto oggi dei tuoi ragazzi? Una bellissima partita, siamo stati davvero bravi perché l'abbiamo gestita bene fin dall'inizio, abbiamo disputato una bella gara anche tecnicamente, con la testa giusta, concentrati. Comunque venivamo sempre a giocare contro una squadra che fa sempre gol, ne fa sempre più di uno, quindi c'era anche da stare attenti e non scoprirsi per concedere qualcosa in più. Faccio complimenti ragazzi perché una vittoria credo meritata e una finale altrettanto meritata, quindi ce la andiamo a giocare con grande orgoglio. Archiviata la vittoria di Odici, penso da domani a Rappallo. Certo, oggi è andata, è già passata, quindi siamo contenti, ora ce lo teniamo, però un po' da domani c'è da pensare a vedere un po' come si è ammesso, insomma fra vari acciacchi, ragazzi che hanno giocato di più o di meno e poi c'è da subito a pensare ancora ai domenzi, insomma che ora abbiamo due partiti importanti. Ok, grazie.